E vediamo se poi riusciremo anche a parlare con il nostro ospite di oggi Che sicuramente sarà felicissimo di parlare di Atleta eSport e non della sua squadra di appartenenza Ovvero di Gigi eSports Noi, voi lo vedete nel titolo, ve l'abbiamo annunciato a inizio game Io, stiamo sporando di due minuti però Spero che ci senta Invitalo, invitalo Che sia pronto ad essere invocato Quindi adesso lo chiamo Anzi facciamo così tipo Shredder ci sei? Sì Eccolo Ecco, lo dobbiamo sbloccare ancora Faccio io la main story Allora In realtà sappi che adesso è molto 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 più chiaro di prima Ok Però comunque si vede, l'importante è questo No sì, ma sono un po' scuro sì Senti, benvenuto, benvenuto e grazie per aver accettato l'invito chiaramente Mi dispiace che non ci sia Deogemo qui con noi che ti possa Lanciare domande quasi neutrali Perché Rive già ancora deve imparare a essere neutrale Ma io ci provo Ogni tanto ci riesco, ogni tanto no Si può imparare a diventare neutrali? Si può imparare a diventare neutrali Sì, sì Ma io la domanda a Shredder la voglio lanciare subito Su quello che i GG stanno facendo vedere Che comunque sembra andare al di sopra delle aspettative Perché se guardi le tier list iniziali Quelle fatte tra l'altro da quel maledetto di Deogemo I GG non erano proprio sulla carta una squadra che sembrava essere così bella da vedere Che comunque magari in alcuni game un po' di meno In altri game decisamente sì È anche la squadra che è riuscita a battere i match L'unica sconfitta che hanno avuto Cosa ne pensi del vostro split fino adesso più o meno? Ma sono contento perché comunque sulla carta Penso forse tra noi eSports Empire penso È bello vedere tipo questi team no? Che comunque non te l'aspetti che fanno questi grandi risultati Fare appunto tipo noi abbiamo battuto i match Comunque abbiamo battuto anche Cyberground che secondo me Non so per niente è una squadra scarsa diciamo Anche se stanno avendo il loro periodo un po' buio al momento Sì però c'è una cosa che mi piace di questo PG Che sembra che è molto bilanciato come PG Secondo me rispetto agli altri Perché magari sono gli altri che c'erano magari due super team Che erano imbattibili Invece qua sembra che tutti possono battere l'altro team Quindi questa cosa mi piace un sacco Alla fine non c'è neanche un team a punteggio pieno Quindi questo sembra che tutti possano perdere Esatto esatto Infatti è molto più bello così secondo me Stavo per dire come tutti possono vincere Purtroppo in realtà questo non sono ancora in grado di dirlo Però vedremo Magari si riprenderanno i Samsung Magari Anche se si hanno puntato verso lo spirito perfetto Avresti dovuto dirlo Ischio Che cosa? È stato bellissimo Tutti possono vincere? Sì sì Senti Sappi che quando ho detto Anzi ci arrivo dopo Prima la domanda di Avataro Perché ci dice bilanciato in bene o in male Il livello di base Ecco parlando di livello di base Molte persone che ho letto Accusano questo PG National di essere di un livello Lievemente inferiore a quello dell'anno scorso Perché sembra che i Mascco si siano un pochino indeboliti rispetto al super roster che avevano in Summer Ma comunque i Mascco continuano a vincere Vincono convincono E comunque adesso per ora Stanno in cima alla classifica A te come sembra che sia rispetto agli anni precedenti? Allora sono d'accordo nel senso Magari è lievemente più basso il livello Però come vediamo i Mascco Magari non è che hanno un super team come hanno sempre avuto a scorsi split Però sono comunque i primi Quindi vuol dire che sicuramente ci mette anche tanto il coaching staff dietro Cioè anche per quello comunque stanno così tanto in alto Anche se non hanno i player magari conosciutissimi Che stanno fortissimi Già e già sai che i Mascco arrivano così in alto Quindi secondo me sì nel senso Si è leggermente abbassato Però è comunque Cioè secondo me è più bello rispetto agli altri Perché è più combattuto Anche se è un po' più basso il livello Quindi sicuramente a livello di competitività E di intrattenimento È più bello da vedere È più interessante da guardare Sì sì secondo me sì È un bilancio molto difficile avere questo Essere spronati da una parte a vedere il PG Perché è bilanciato E quindi dice chissà chi vince D'altra parte anche i player Sono spronati nel dire Noi in questo game effettivamente possiamo vincerlo Giochiamo Infatti qua ce lo dice anche Avatar Immagino lo sapremo nelle competizioni internazionali Quando sarà il momento Del Leo Master Chi ci arriverà Immagino che Quando ci arriveremo Neutrale è bello Neutrato chiesto neutralità Almeno per questa mezz'ora Poi Che poi davvero non c'è lì Ma io lo faccio per scherzare Poi Cioè se tu vuoi un bacino Io ti do anche il bacino Cioè non è un problema Io sono aperto a qualsiasi cosa Però Cioè sono un atleta che devo fare Ma no 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 Perché sì il canale si chiama atleta Indubbiamente Noi siamo interessati a tutto Non dico deve passare il messaggio Perché è proprio così Noi le voci Di tutto il movimento Siamo interessati a vederle Raccontarle A farle conoscere Per quanto ci riesce possibile Almeno nel nostro piccolo Ma il mio tifo Non deve assolutamente andare a intaccare Il rispetto che ho per shredder Ci mancherebbe altro Vedete Tabba shredder Demolire l'Eccles In Eumaster Dice Artan Questo Io lo spero Lo spero Questo significa che comunque EGG Almeno secondi Dicevo Basta Ho finito Ho finito Ho finito Allora Un po' Un po' Di sfotto Sai perché lo possiamo fare? Perché sentiamo Perché Due squadre della capitale Comunque Abbiamo fatto il derby E quindi Poi abbiamo scoperto Poco fa Che c'era delle prove di Roma E tu mi dici Sì 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 Disgraziato Io con la minchia Che lo facevo stare a casa Lo facevo venire qua Stavamo comodi Belli Tranquilli Sì E invece no Tra l'altro Oggi non è che Devevamo stare male È che l'abbiamo licenziato Per le cose che ho detto Le volte scorse Quindi Si è aperto lo spazio Per shredder Sì esatto Sei benvenuto Nel nostro nuovo programma Spero che ti piaccia Il format di Studio League Sì sì Ti devi tingere solo i capelli E stiamo a posto Sì sì Lo vedo bene con il rosso Dice Tra l'altro Leggiamo Vabbè non è molto difficile Rompere Demolire Reckless In Omaster Questo non è vero Perché Reckless Facciamo un altro Bilanciamento Ha fatto la sua prima Penta Hai visto la stanza Che abbiamo fatto Bellissimo Visto E qua si è messo a piangere Quel poverino Tanto Avataro vuole farti una domanda Un commento a caldo Sul kit Del nuovo supporto in uscita Se l'hai visto E qua Avremo le danze Io? Eh tu sei comunque Il supporto in aim E quindi Allora non ho visto solo la R Hai visto solo la R? Bene Sono contento Che non abbia Restato Se vuoi ti descrivo la W Ti faccio svenire in live Sì non la so tanto Sì Non è finita qua Dov'è che devi andare? Se fai una kill Si resetta Il buff Se muori Rinasci Ok? Non ridere che non è finita qua E bruci Per tre secondi Fino a morire Ma Ma Se in questo momento Di tempo In cui sei rinato Stai bruciando Dove sei per morire Fai una kill Non bruci più Ah Ma Tu dimmi Io non sto contando la R Tra l'altro la R può anche permetterti Di rubare i campi E i baron Sapevi sta cosa? No non lo sapevo Se tu Se tu Sentite sta cosa Se voi fate la ultimate Su che so Mastery avversario Che sta facendo il baron E Mastery avversario In berserk Per via dalla vostra ultimate Prende il baron Lo prendete voi Scusa? Allora no Aspetta un attimo La ulti Va La va bersaglia Va Fa in modo Che se ne range Ci siano campioni Lui vada verso Quei campioni Su Sì Sui rispettivi Alleati Ma Sì Ma Se c'è il baron O il drago E non hai altri target In base alla situazione Vicino Non Attaccherà il baron E se L'avversario In berserk Per via dalla tua ultimate Prende un obiettivo Come baron Drago O anche il rosso Il buff E tutto quanto Lo prendi tu Come Come Renata Glask Ah Sì 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 Ok Neanche Artan Sapeva del baron Comunque Meno male Tu basta che chieda a me Ti dico quello che vuoi Artan Fa male al cuore Sapere queste cose È meglio non sapere a volte Infatti adesso Lo sentiamo Il commento Facci pure Ci delizi Comunque a parte Di scherzi Sentiamo Che cosa ne pensi Tu Shader Ma Voi si descrive Altre spell E poi mi dici La tua Vabbè Con le due spell Sembra abbastanza Broken Però alla fine Secondo me Come tutti I champion Che escono Ma beh All'inizio Saranno broken Ok Però poi secondo me Non sono poi così broken Perché poi Lo nerfano E poi Alla fine Devi sapere Giocarci attorno Secondo me A ste cose E poi Sembra meno broken Diciamo ecco Però Sì Sembra abbastanza rotta Come cosa Ma perché è una cosa nuova Secondo me Anche per quello Ti fa sembrare Che è proprio rotta Come cosa Però Magari non lo è Non lo so Dobbiamo vedere Sì è nuova Diciamo che Ha un po' di problemi Di gestione del mana Perché comunque Usi le spell Fai avanzate E questo Ti Ti permette Cioè di giocare La partita In determinato modo E non spammare Fino a quello che Puoi fare quel che vuoi Diciamo Come altri campioni No no Hai proprio le skill contate Questo è un È un suo Con È un suo contro Ok Però a me La cosa che disturba Non sono tanto Magari i numeri Che devo ancora leggere Che devono ancora uscire In live Cioè L'altimente Fa un tot La E Fa un tot Dal genere A me la cosa che preoccupa E che Il kit ha troppe meccaniche Un po' come Era prima Kali Capito La W ha troppe cose Dentro Mentre che In blitzer Anche dice Slow a se stesso Lei fa tutte Ste cose Ok Per me Questa cosa Sbagliata È molto Molto Sbagliata Cioè Vedi la R Ad esempio Anche con la R Visco Ha fatto Un ottimo punto Cioè Attaccherà Altri avversari Quindi la situazione Deve essere particolare Per prendere il bar O una roba del genere Allora W Tu hai Letteralmente Una Una super Ultimate Di Zillian Se è giocata bene Ovviamente Infatti ci dicono Penso in competitivo La vedremo nel 2000 Mai Nel 2000 Mai Possibile Tra l'altro Sempre parlando di competitivo Sappiamo che questa settimana Chiaramente Non c'è bisogno Che tu ci dica Tutti i dati Delle vostre scrim E tutto quello Che state provando In allenamento Però se lo vuoi fare Sei libero di farlo Pare che in competitivo Questa settimana Sia abilitata Zeri Quindi potremmo Vedere Zeri Secondo te Ma dici Ah In generale No 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 E beh Secondo me Viene perma bannata La prima settimana Ah si Secondo me Non la vediamo mai La prima settimana Cioè viene perma bannata Sì Dalle squadre Forse Dopo sì Perché magari la gente Capisce come giocarci attorno Come draftarci contro Quello sì Però la prima settimana Che è disponibile Non La vedo dura Che qualcuno riesca a giocarla Secondo me Tu hai già avuto modo di Di averla in squadra O contro In determinati Anenamenti Solo chi Solo chi Solo chi Di parla Sì 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 Solo chi Solo chi Ovviamente Certo Ma ci Ci magari Come ti è sembrata Quindi Se prevedi Il suo ban Banno picco Ovviamente Pensi che sia forte Allora Sì ma secondo me È sempre la stessa cosa Che Nessuno ha capito ancora Come giocarci contro Ok Appena scoprono Bene Quali sono Diciamo i suoi punti deboli Magari la lasciano open Perché magari Non è così difficile Da counterare Secondo me Ok Vedremo Vedremo Io ho tanta paura Più che altro Perché andare a A bannare Zeri Potrebbe lasciare Spazio Per un'altra Dicare Che io Non voglio vedere Assolutamente Stiamo parlando di Senna L'abbiamo già detto Io sono Ero contento Finché Senna era sparita Ma Essendo importante Volevo sapere la tua Shredder Ora che li modificano L'ottenimento di anime C'è la possibilità Magari di nuovo Di riportarla a support Con magari Un Un chogat Che può farmare Come ai vecchi tempi L'hai provata Cosa ne pensi Fammi sapere Sì l'ho provata L'ho giocata Un bel po' di volte Appena È riuscito Solo chio ovviamente Solo chio Sì sì Solo chio ovviamente Solo chio E No sì Mi sembra abbastanza Ovviamente Secondo me non è molto Blind piccabile Forse Attenzione ok Secondo me non è molto Blind piccabile Perché Non lo so Se ti piccano tipo Leona Sì Quelli che riescono Comunque andare sopra Senna Non so quanto Sia buono come picco Però Secondo me già Se vedi magari Non so Un enchanter Comunque c'hai Freelane Secondo me È molto È molto forte Con picc Sì Molto forte Scala bene È decisamente Tra l'altro vedere Senna tornare in compedio Potrebbe anche aprire le porte Al ritorno Della buona Icaravecchia Yord Al Salterina Immagino che sia Un forte counter Di Senna Tristana Come picco Scala bene Hai detto proprio scala bene Stiamo vedendo game Tra l'altro Sempre 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 Pi' lunghi Si sta passando Dal famoso League of range A League of time Secondo te Ma sì Cioè Stanno molte comp Come Vediamo Sempre quelle di Cristo Che tutti Dicono che Eh che Sì Sembra di sì Comunque Comunque Ci sono un sacco di game Sono un sacco lunghi Per esempio Con la Tipo GG contro Magico Non so quanto è durata Quel game Sarà Quasi 50 minuti Sarà durato Io adoro i game a 50 minuti Non sai quanto li adoro Eh sì No io Io quel game Veramente stavo tipo Stavo sudando Penso Veramente Ah ecco vedi Queste cose io sono molto Molto Stai parlando del vostro game GG contro Magico Sì sì GG contro Magico Sono curioso Che cosa va a provare Un giocatore In un Tipo di partita del genere Cioè Quanto Devi essere forte Mentalmente Per tenere alta La competitività La concentrazione Per 50 Minuti Filati Anche perché Magari non succede Spesso in allenamento Di trovarsi di fronte A queste situazioni O in solo queue O in solo queue Ma penso Sia tutto Sia tutto hype Cioè nel senso Te Quando capisci Diciamo Dentro il game Che puoi vincere Cioè Come posso dire Come se ti impegni Sempre di più No perché Perché puoi vincere Ovviamente Quindi penso Sia tutto hype Non so Non so Non so come dire Una bella sensazione Però Fino a esplodere Proprio alla fine Sì Anche perché voglio dire Un game da 50 minuti Giocato contro i match Che comunque sono I favoriti Possiamo dire Sono i favoriti Se vinci due volte In un anno Resti il favorito Anche se cambi tutto Il coaching staff Indubbiamente Fa la differenza Però comunque Una vittoria del genere Porta soddisfazione Soprattutto se poi Viene nella prima settimana Quindi Viene nella prima settimana E viene da Una settimana 2-0 Che Dopo la prima settimana Eravate in testa La classifica Accanto solamente Agli Sports Empire La mia domanda invece Per quanto riguarda Il team Chi degli elementi Di questo Di questo roster Ti ha sorpreso di più E con quali Ovviamente Tab a parte Ti trovi meglio Ah tab a parte Eh tab a parte Perché non puoi dire Mi trovo bene Con il Medicare Mi trovo bene Con Sixten Midlaner Che Cioè Vedo proprio A parte che è molto Fa di tutto Per migliorare Magari Non so Un giorno Mi invia una cosa E dice Guarda qua Che ha fatto Caria per esempio Guarda qua Che ha fatto Caria Potresti provarlo In screen Magari Dunque vedo Che Diciamo Abbiamo confidenza Tra di noi No Che ci diciamo Tutto quello che Magari io guarda qua Ha intato Migliora sta cosa Così Vinciamo più game E niente Questa cosa mi piace No Oppure se magari Io sbaglio qualcosa di grave Lui non è che sta zitto Perché così Magari ci rimango male No Me lo dice E a me va bene Cioè non è che me la prendo Così Miglioriamo tutti E Eh sì Comunque Sixten Un bel teammate Un bel teammate Quindi Sten Per E comunque Cioè Offrire spunti Per migliorare Anche a A tutto il resto Della squadra Con qualsiasi cosa Ma guarda ho visto Quest'azione Vatti a riguardare Come gioco Sembrati quasi Io che mando i nudini E dice voi I video a Revit E i video Delle partite Chiaramente Da osservare Non Non pensiamo male Senti Vai Diciamo che può anche Cioè alla fine Quello che fa Sixten E quello che anche Dovrebbe fare Un coach Però ovviamente Se tu hai Due cose da vedere Uno che te lo dice Un compagno Uno è il coach Impari più cose Perché Più errori vedi Più ne puoi fixare È una cosa molto bella Che fa Sì Adesso Probabilmente Subirai un po' di flame Direi il Vege Io sono molto curioso Di capire che cosa è successo Proprio contro di noi Contro dell'Atleta Perché Perché comunque Io vi ho sempre visto giocare Mi è sempre piaciuto Come giocavate È sempre un gioco Molto 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 interessante Molto propositivo Una squadra che sembrava Già pronta A differenza di molte altre Ora che cosa È venuto Cioè che cosa è successo In quel game Adesso te lo chiedo Da esterno Perché chiaramente Non essendo all'interno Di un team Vorrei sapere Che cosa Che cazzo succede Che cosa Avete combinato Alla dentro Come mai Flamma pure Quanto vuoi Come ha detto Tabba Come ha detto Tabba Nell'intervista Perché poi stavo intervistato Dopo il game Non so che l'avete visto Vabbè Sì E ha detto Che comunque Erori Un po' stupidi Diciamo che Non eravamo Sulla Sulla same page Cioè che non Vedevamo le stesse cose Diciamo non eravamo Non so Non eravamo d'accordo Su alcune cose In game Quindi È andata un po' così Poi Contro Quella comp Se vai Così tanto Behind È proprio Non puoi fare niente Proprio Non puoi fare niente Quindi In effetti In effetti Io per un momento Ho visto O almeno Mi è sembrato di notare Qualche somiglianza Nel tipo dei gameplay Che stavate adottando Con quello nostro Della partita precedente Della partita del giorno prima Cioè La classica strategia A tartarughe Sarate stuggine Reville Quando Devi Prendere botte Rinunciando a tutti gli obiettivi Sulla mappa Ti chiudi dentro la base E scali un po' Noi avevamo corchi Il giorno prima Però Niente Solo questo Era un appunto Se ho notato male E se non Se non era vero Dimmelo pure Non ti preoccupare No 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 Sì sì Non mi affare così Cosa Cosa avresti dovuto fare Per vincere secondo te A parte giocare Come hai detto tu Nella stessa pagina Cosa avremmo dovuto fare L'avete fatto Votto del game Non lo so No Ancora no Vabbè non so che posso dirlo E se l'avete fatto Cosa vi se ne dici No Senza ovviamente Dire spoiler Di strategia o nulla Può anche semplicemente Dire Io avrei potuto fare Una rotazione X Invece che una Y O roba del genere Ma sì Allora Cosa mi andrebbe anche A identificare Un errore Utilizzabile Da parte nostra Noi abbiamo sbagliato A fare questo E loro potevano punirlo Sta Vuole farmare il coach Per la draft Ma non lo può fare Perché c'è arte No 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 Sono serio Sono serio Perché comunque È importante capire Anche dove noi abbiamo sbagliato Perché comunque Il clean Il game sì È stato abbastanza clean Però si può sempre Pulire di più Diciamo Non lo so Forse Cioè Penso sicuramente Abbiamo aspettato troppo No Che abbiamo Ci siamo chiusi Sino come Io come ho detto Non mi ricordo A testù Vischio Vischio Magari abbiamo aspettato Troppo Troppo tempo Perché siamo andati Behind the early E forse Potremmo Sicuramente Potremmo trovare Più window Magari Magari ci sare Non lo so Qualcosa così E sicuramente Sarebbe stato molto più facile Andare avanti nel game Va bene Senti invece Facendo una domanda Magari un po' più Puoi anche rifiutarti Di rispondere Se vuoi La domanda È per quanto riguarda La scelta Di PG Nationals Di andare a chiamare E a sentire Intervistare Persone Anche del team Che ha appena perso Che magari Non si trovano In una situazione Mentale Adeguata Per rispondere A delle domande Con un sorriso Sulla faccia Che per una telecamera È sicuramente più piacevole Tu che cosa ne pensi Di questa scelta Che hanno adottato Se puoi E delle domande Che fanno Penso Penso sia ok Perché è facoltativo Quindi Ah è facoltativo Sì sì Per i perdenti È facoltativo Quindi Quindi Cioè Per me va bene Cioè anzi Anzi A chi ci va Tipo Tabbo Che ci andava Altra volta E io ci sarei mandato Per il Non ci avrei fatta Però sì Finché è facoltativo Va bene Secondo me Non c'è Niente male A caldo Ok ok Se va volontario Tranquillo Sì Che ci sta Sì sì Esatto Madonna Io sicuramente In cinque anni di liceo E mi vanto Di averne fatti cinque Non sono mai andato Volontario In un'altra interrogazione Senti ti volevo portare Anche i saluti sicuramente Di N Revolver Che ti dice Shredder ti amo Ah sì sì Quindi qua scominciano A spuntare I primi ammiratori Ma sappi anche Che uno dei tuoi Più grandi ammiratori Io l'ho avuto In macchina stamattina E che mi aveva promesso Anche Di mandarmi un vocale Da farti sentire Si è dimenticato Probabilmente Bravissimo Si è dimenticato Però chiaramente Mi sto riferendo A Black Russian Che ha detto Sono tanto contento Perché Shredder Senti sul 3 a 3 E la settimana prossima È buona Meglio non stanno Però la settimana prossima Andate ad affrontare I team ultimi In classifica Perché andate ad affrontare Axloth prima E Samsung Barnstar dopo Uno Uno Parlando prima Dei Samsung Barnstar Che forse c'è da meno Da parlare Pensi che si possano Svegliare Che sia una mina vagante Che una squadra Che al momento Non avendo ancora vinto Sia pericolosissima Perché potrebbe Vincere una partita Così con un colpo di reni Dato da Non essere più Alla ricerca Di un posto alto In classifica Sì Come ho detto all'inizio Secondo me Appunto questo PG È bello Perché è molto bilanciato Secondo me Cioè secondo me Gli SMS hanno tutte le carte in regola Per vincere Contro qualsiasi team Quindi Cioè non è che vado lì Che vado Overconfident Perché sono ultimi Cioè io Vedo un avversario Tutti uguali Cioè magari Vabbè I match Ok Vado un po' più Più incazzato Eh sì Un po' più ipato Però comunque Secondo me Sicuramente possono Sempre vincere Possono battere Chiunque Secondo me Il fatto che non l'abbiano Ancora fatto Quindi è solo un caso Qua ovviamente Non flamma nessuno Vogliamo un po' di Di pepe Perché se non ci adeggiamo Non viene portato Del pepe No chiaramente Sto scherzando Adesso mi fa Mera revi Invece perché ho detto Sto scherzando E Non flammo nessuno Perché dovevi flammare Le persone Questo Perché lo fai di mestiere Questo per quanto riguarda I Samsung Adesso invece la domanda Ce l'ho Per quanto riguarda Gli Axelot Che invece hanno dimostrato Di avere un percorso Ben diverso Però gli Axelot Sono partiti male Sono partiti molto male Mancava Robin Che sicuramente La sua esperienza La sua conoscenza del gioco Portano Tanto A livello di team Probabilmente portano anche Quello che Per te SX10 In un certo senso Io me lo immagino Robin come membro veterano Che va A dispensare Anche Doxy Chiaramente Che va a dispensare Consigli a tutta la squadra Anche per ragazzi più giovani Come Tinelli Che abbiamo avuto ospite La settimana scorsa Poi si sono ripresi Più o meno Hanno cominciato a esprimere Un gioco ben più diverso Un po' più aggressivo Un po' più nelle loro corde E probabilmente avrebbero vinto Anche il game contro di noi Perché quel Doxy era In grazie di Dio Poi è successo Qualche è successo Meno male Di loro invece Neutrale Vischio Carino e neutrale Di loro invece Che cosa Cosa ne pensi Nel senso Cosa pensi Di poterti aspettare Beh in realtà Allora Sicuramente sulla carta Magari Sono migliori Rispetto ad altri team Secondo me Ah attenzione Però Non so Perché magari Non so Magari Quella settimana Quella prima week Magari si sono buttati un po' giù E non si sono riusciti A fare Tanto Però secondo me Cioè Iaxalot non sono un team Sottovalutare Come ho detto C'è da prima Che nessuno Sottovalutare Secondo me Sono un team Pericoloso Forte e pericoloso E infatti Io qua ti giro La domanda di prima La domanda di prima Te la giro Perché tu sei stato Protagonista di un game Molto lungo Che però hai vinto Mentre loro sono stati Protagonisti di un game Molto lungo Che stavano Stra Vincendo E che poi hanno perso E il giorno dopo Il giorno dopo hanno vinto Adesso già C'è un attimo di Di voto di memoria Il giorno dopo avevano i Samsung Morningstar Partita che Ammetto Non ho visto Non ho avvenuto Eh l'ammetto Non l'ho vista Purtroppo non l'ho vista Stavo in van A portare i ragazzi Quindi non potevo Devevi leggere Quello che ha detto Lodovico Nessuno Tranne i Samsung Che ormai sono doomed Secondo me non sono doomed Non siamo ancora Al fantomatico gioco di boa Quindi non sono doomed Ma Mi odieranno Perché per aver detto Gioco di boa Mi odieranno E il Quello che ti volevo chiedere È loro Anzi Che cosa pensi Che sia saltato Nella testa degli Axolotl Proprio dopo Un game Del genere Cioè che come Quanto c'è da lavorare Dopo che succede Una cosa del genere Se ti è mai successa In solo Q Chiaramente In solo Q In solo Q E allora Non ho visto il game Però so solo che hanno perso Che avevano una lead di 17.000 17.000 circa Sì Esatto Ma io Tilterei sicuramente Non so Non faresti l'intervista A post game Diciamo così Esatto No no Quella no Neanche No no Assolutamente No non lo so Penso tilterei Sinceramente Non lo so Perché non mi sono Non mi sono mai trovato Diciamo In queste situazioni Meno male Da vivere Sicuramente Non sono il massimo Tutti il terresti E La settimana Cioè Se proprio Dovessi giocare Il giorno dopo Con che tipo di spirito Ci vai Incazzato Aipato Voglio spaccare tutto E quindi Vi spacco Anche a voi Oppure Sono depresso Dal giorno prima E quindi Non voglio Sono Gioco peggio Perché stanno ancora Pensando a quello Che è successo ieri Allora Allora Mi ci devo trovare In situazione Però Secondo me Sono più aipato Però non lo so Magari Quando hai una Losing streak Non succede a lui Ovviamente Può succedere Può succedere Vai in range Qui Qui Cioè che subito Vai subito In game No 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 Io Lui Sinceramente Tiltato Non me lo immagino Guardalo come Non me lo immagino Cioè Proprio la faccia Del support main Calmo Tranquillo Perfettamente Conscio Dei suoi mezzi Che è in grado Di gestire Come le persone Cambiano in game Magari può essere Anche calmissimo Shredder E in game Ammazza Non lo posso dire Perché è bannabile C'è gente Che magari è come lui Però in game Cambia di carattere Ce ne sta assai Sei uno Degli shot caller Del team Io No Beh Uh attenzione Attenzione Che è? Eh no Ah lo devo dire Io non so Se non si può dire Questa cosa No Io appunto Non so Artan Chiediamo Conferma a te Se può dire Chi sono gli shot caller Del team Visto che ci sta chiedendo E sta facendo Anche tra l'altro I complimenti Alla tua mental Che dice Mental di shader Maggiore di chiunque Maggiore tanto Maggiore tre volte Non una Maggiore tre volte Di chiunque Quindi proprio Incompetitive Sì Incompetitive Sì No aspetta Prima Ha detto Sono io Sono io Lo shot caller Quindi no Non lo possiamo dire Non lo possiamo dire È giusto Va bene Io provo a indovinarlo Secondo me è 6x10 Secondo te è 6x10 Sì Perché se Se è proattivo post game Che invia addirittura Le cose a shader agli altri Allora non immagino Quanto sia in game Non ridere A shader Per piacere No 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 Non si vede Tanto noi Adesso che sappiamo Che 6x10 Manda I consigli A tutta la squadra Dopo la partita Sappiamo che Dobbiamo recuperare Il suo numero A creare il telefono E rendere impossibile Questo tipo di comunicazioni Sì Sì A posto Aiuti anche me Esatto Magari Serve un 6x10 Per aiutarci tutti Comunque Alla fine Ultima domanda Se il Revelo Poi non ne ha altre Giuro che poi Ti lascio libero Come giudichi Fino ad ora Perché siamo quasi Alla fine del Primo giurone d'andata Anzi del giurone d'andata Fino ad ora La prestazione generale Del team All'interno dello split Tu come la giudichi Come pensi Se pensi che possa migliorare Se pensi che sei arrivato Fino ad un certo punto Sei libero La prestazione generale Del team Fino ad ora Ma Abbiamo giocato Allora Abbiamo giocato Molto bene Alcune partite E molto male Altre Penso che Comunque Per il roster Che abbiamo Secondo me Abbiamo sorpreso tanto Cioè almeno Almeno è quello che Mi verrebbe da dire a me Se vedo una squadra Del genere E vedo battere Squadre comunque Con nomi già conosciuti Cioè secondo me Abbiamo fatto Un ottimo lavoro Abbiamo Abbiamo iniziato anche A scrimare tardi Rispetto agli altri team Quindi secondo me Già da questa cosa Ci ha messo un po' Cioè siamo partiti Svantaggiati Però abbiamo Lavorato tanto E partire comunque Con una settimana 2-0 Secondo me abbiamo Fatto Un ottimo lavoro Beh decisamente Pensate Pensate a Terravil Scrimmare tardi Iniziare a scrimmare tardi Rispetto agli altri team E poi la prima settimana La fai 2-0 Ma magari io Avessi fatto la prima settimana 2-0 Ho fatto 0-2 Penso che morirei Quindi sicuramente Possiamo dirlo Avendo giocato Molto bene Delle partite E molto male Alte partite Il margine Di miglioramento È enorme Perché andando Aspetta Ci arrivo Ci arrivo Il margine di miglioramento È enorme Tantissimo Perché comunque Andando a riuscire A colmare E a correggere Per bene Gli errori Che sono stati effettuati Nelle partite In cui avete giocato male Teoricamente C'è Un ventaglio Di opzioni gigantesche Sì Sì Esatto E Avataro ti chiede Come vedi Questi team Nel summer Come vedo Questi team Nel summer Quindi Tutti uguali Cioè Non cambiano Il roster Eh Mettiamo caso Che Questi team Vanno tutti uguali Cioè Con lo stesso roster Allora Di tutti i team Cioè Tutti Tutti Pure il vostro Non lo so Ecco Perché Weik Weikikare Taba Scendere Per questa No Abba Di scherzi Tu Vedi Comunque Qualche team Magari Uguale Che lo lasci Tale Perché Può migliorare Col tempo Secondo te A parte di scherzi Il nostro Secondo me Perché è più Giove Perché ha fatto Poca scream All'inizio Figurati se Screamiamo assai Spacchiamo O culo Tutti Esatto No comunque Cioè È vero Secondo me Cioè Se abbiamo fatto Tanto con questo Roster Che non è un Roster Assurdo Secondo me Possiamo fare Molto di più E stiamo andando Decente Secondo me Quindi Speri Che Che comunque Il roster Venga riconfermato Per il summer In un certo senso Anche se questa domanda Non potresti rispondere Assolutamente Non sinceramente Non denunciano Già oramai Ci ho detto A chi dobbiamo Dossare il telefono Chi è lo shot caller Sappiamo che A Artan Basta per fargli avere Un po' di mal di gole Tu non potresti essere In In chat vocale Con loro Comunque Così lo dico Beh Io ti ringrazio Sicuramente Per la mezz'ora Che ci hai dedicato E nel caso Tu avessi Qualche altra domanda Revil Sei libero di farlo E nel caso Tu invece Shredder Avessi Qualche domanda Da fare Nel caso Avessi bisogno Di sapere Lo shot caller O il numero Di telefono Di gabbo No Visto così Siamo vari No no Si scherza Si scherza Grazie mille Grazie infinite Per aver accettato L'invito Grazie per essere stato Con noi Ad averci dedicato Questo tempo E sicuramente Un enorme In bocca al lupo Per il proseguo Dello split Perché Per chi lo devo dire Anche se Sei l'altra scuola Da capitale Comunque A noi piacciono Questi tipi di team Da vedere Ci interessano sempre Sono belle storie Da vedere Belle storie Da raccontare E belle storie Da vedere Realizzate Grazie mille Grazie mille Buona fortuna Anche a voi Grazie E buona giornata Bacio Ciao ciao Grazie mille